A Roma un ragazzo Il ragazzo di 21 anni originario del Bangladesh è stato picchiato e rapinato del suo smartphone. I fatti sono accaduti in zona Esquilino, mentre il 21enne stava camminando da solo per strada ed è stato aggredito da tre persone che oltre a picchiarlo gli hanno rotto una bottiglia di vetro in testa. Fortunatamente si è trovato a passare in zona anche una pattuglia dei carabinieri di Piazza Dante che è intervenuta con i militari che sono riusciti a bloccare gli aggressori, ma soltanto uno perché gli altri due si sono dati alla fuga e si tratta di un egiziano di 28 anni senza fissa dimora. Il 21enne è stato medicato in ospedale con alcuni giorni di prognosi. Anche a Latina un minorenne è stato aggredito in zona pub con delle bottigliate. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica e la lita è nata per futili motivi, nel corso della quale una persona ha puntato un coltello al fianco della vittima costringendola ad uscire dal pub. Una volta raggiunto l'esterno l'aggressore alla domanda sulle ragioni di questo gesto è stato colpito appunto dall'interlocutore con una bottigliata ed è stato ferito al volto. Per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale e si è stato medicato dai sanitari che gli hanno riscontrato il taglio del labbro, la frattura del setto nasale e la rottura di alcuni denti. Ora sono in corso l'indagine per individuare l'aggressore. Sempre a Latina una bimba è stata morsa da un cane in centro, la piccola si trovava lì con i genitori, mentre l'animale è un meticcio di mezza taglia appartenente ad una donna di origine polacca, regolarmente scritto all'anagrafe canina. La piccola è stata medicata in ospedale Alcoretti e non è in gravi condizioni, la donna invece è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali colpose e malgoverno di animali. Per il basket di Serie A2 e per la fase salvezza perdono sia Latina che Luis Roma nell'ottava giornata del torneo, dove i pontini lottano ma vengono sconfitti 79-85 da Nardò al supplementare e in casa, sconfitta anche per la Luis Roma che perde 100-74 in casa di Agrigento. Erano già matematicamente retrocesse entrambe le formazioni che restano comunque a 22 punti in classifica. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vediamo appuntamente ai prossimi telegiornali di Canale 81 Lazio.